Scontri a Barcellona tra indipendentisti e polizia a due giorni dal primo anniversario del referendum sull'indipendenza della regione. I separatisti hanno tentato di bloccare una marcia a sostegno della polizia spagnola, gettando polvere e vernice colorata sulla barriera di agenti istituita per impedire l'accesso alla strada che porta al quartier generale della polizia. Le forze locali hanno usato i manganelli per respingere gli indipendentisti e tenere separati i due gruppi di manifestanti. Abbiamo ancora bisogno di aiuto a livello europeo, penso che in particolare Carles Puigdemont stia facendo un ottimo lavoro e credo che prima o poi ci riusciremo, ma non sarà oggi per domani. So che a volte ci sentiamo scoraggiati e pensiamo di essere stati traditi, ma secondo me le cose stanno procedendo bene. Il primo ottobre sarà trascorso un anno dallo storico referendum con cui i catalani votarono a favore dell'indipendenza, referendum ritenuto illegittimo da Madrid.